Musica Carissimi amici, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi studiamo insieme l'intro di Coralina di Maneskin, un altro brano veramente fantastico Prima di cominciare il tutorial, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube Fatelo adesso in questo preciso istante E attivate anche la campanellina così ogni volta che pubblico nuovi video Vi arriverà la notifica che vi avvisa Detto ciò cominciamo subito e come al solito per imparare in maniera più semplice studieremo a sezioni La prima cosa che studiamo è il pattern della mano destra in quanto è lo stesso per tutto l'arpeggio Quindi senza che ad ogni sezione vi dico sempre la stessa cosa Ve lo faccio vedere subito all'inizio e poi voi già sapete che tanto sarà sempre quello La mano destra alternerà di continuo quinta corda e seconda corda Sia che pizzicate le corde con le dita E sia che suonate con il plettro La cosa importante è mantenere di continuo questo mood swingato Quindi Prima sezione Indice al quinto tasto della quinta corda E mignolo al sesto tasto della seconda corda Con la mano destra suonerò per quattro volte il pattern che vi ho fatto vedere prima Sessione 2 Sposto tutta questa forma Cinque tasti più avanti E mi ritrovo con l'indice al decimo tasto della quinta corda E il mignolo all'undicesimo tasto della seconda corda Far scivolare non vuol dire questo Non dovete fare un glissato Semplicemente dovete sfruttare le corde come guida Per arrivare alla posizione di destinazione Anche stavolta la mano destra suonerà per quattro volte il pattern che vi ho spiegato prima Sezione 3 Da qui faccio scivolare questa posizione tre tasti indietro E mi ritrovo con l'indice al settimo tasto della quinta corda E il mignolo all'ottavo tasto della seconda corda Anche stavolta la mano destra suonerà per quattro volte lo stesso pattern Sezione 4 Attenti che quello è un po' più difficile Da qui, da dove stavamo Faccio scivolare il mignolo due tasti più avanti Mentre l'indice un solo tasto più avanti Quindi ci ritroviamo così Con l'indice all'ottavo tasto della quinta corda E il mignolo al decimo tasto della seconda corda Con la mano destra suono per due volte il pattern quinta seconda corda Torno indietro alla posizione di partenza E suono nuovamente per due volte il pattern quinta seconda corda Bene, a questo punto rivediamo tutto l'arpeggio da capo Prima molto lentamente E poi al suo tempo Bene, per oggi è tutto Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like E scrivetemi qui sotto nei commenti Quali sono altri brani che volete imparare Io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione Mi raccomando condividete il video Perché attraverso le vostre condivisioni Il mio canale YouTube può crescere E questo mi permette di continuare a portare i contenuti che sto portando E niente ragazzi Io vi aspetto al prossimo video Ciao